Tornano i medici a Gettone negli ospedali del territorio metropolitano. Con deliberazione di ieri, la direttrice generale dell'ASP di Reggio Calabria e Lucia di Furia ha diramato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi libero-professionali a laureati in medicina e chirurgia specializzati in gastroenterologia, chirurgia dall'apparato digerente ed endoscopia digestiva, chirurgica, cardiologia, chirurgia generale, radiodiagnostica e ostetricia e ginecologia. Una decisione che segue di poche ore l'allarme lanciato dal Presidente della sezione Locridea dell'Associazione Tribunale per i diritti del malato e del cittadino Pino Mammoliti, che evidenzia come a seguito del collocamento in equescenza dei primari delle unità operative di gastroenterologia e urologia dell'ospedale Spocchi della Locride, si fosse ulteriormente acuito il problema della carenza di personale, tanto da non rendere possibile in alcuni casi l'erogazione di prestazioni sanitarie. Una grave carenza di personale sanitario e con conseguente necessità di garantire immediata assistenza sanitaria nelle diverse unità operative, riconosciuta nelle prime righe dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione della direttrice di furia, nelle quale si evidenza altresì, che verificata l'impossibilità di reclutare a oggi dirigenti medici specializzati per la carenza in disponibilità degli doni nelle graudatorie aziendali, viene indetta la procedura selettiva urgente per l'acquisizione dei professionisti ai quali affidare gli incarichi liberi professionali. Tali incarichi saranno conferiti per lo svolgimento di turno a chiamata al fine di garantire le attività di guardia ordinaria notturna o festive nelle strutture aziendali per un compenso orario di 40 euro all'ora in turni da 6 o 12 ore per un monte ore settimanali pari a 38. I medici, una volta selezionati, potranno essere altresì destinati ad attività ambulatoriali per le visite preliminari di pazienti con patologie dell'apparato digerente, come colonoscopia, diagnostica e tra gli altri di attività di seconda lettura delle mammografie di screening e dell'esecuzione di ecografie di secondo livello. Il bando a durata annuale e gli aspiranti possono inviare le domande esclusivamente a mezzo PEC. L'ASP vaglierà le domande di partecipazione già da subito considerata l'urgenza di coprire i posti vacanti procedendo alla stipula di relativo contratto e scritto nell'avviso pubblico con i professionisti che avranno prodotto tempestivamente domanda di partecipazione.